Un'edizione che oltre a presentare uno spessore artistico sicuramente di alto livello verrà fatto in quel monumento storico che è il simbolo della nostra città e coniugare questi due aspetti di arte e di storia è per noi importante importante come promozione del nostro territorio, come promozione della città e come promozione dei valori artistici che vengono messi in gioco per questa edizione è sicuramente una novità positiva quella che ci è stata proposta di avere dei figuranti che saranno di contorno per questa manifestazione e quindi darà ancora maggior lustro a quello che è il nostro castello Le novità sicuramente non sono solo di spessore artistico e sui figuranti ma è stata data anche attenzione all'ambiente infatti per tutta la manifestazione ci sarà l'uso di plastica free e questo vuol dire comunque essere attenti anche all'ambiente di questo vi ringrazio e soprattutto ringrazio eventi che da anni è a fianco al nostro comune ci serve con questa amministrazione ci ha permesso di crescere vogliamo ancora crescere e questo lo sta dimostrando quindi a Rachele e a Ivano va il mio grazie per quanto state facendo e per quanto insieme stiamo costruendo direi che non aggiungo altro perché sono tante persone che devono parlare probabilmente devo dare la parola a Andrea Piero grazie e rinnovo i miei ringraziamenti e benvenuti vi ringrazio insomma per essere arrivati anche oggi vorrei intanto ringraziare il sindaco, il comune di Vila Franca per l'ospitalità, per il secondo anno costitutivo, per il festival siamo molto contenti di questo, devo dire che da parte nostra insomma Vila Franca è sempre stata una città che abbiamo tenuto in considerazione da sempre diciamo nel 2020 sarà per me il trentesimo anniversario del music business devo dire che fin dall'inizio degli anni 90 insieme a Ivano abbiamo portato qua a Vila Franca da tantissimi artisti, dal Mobi, ai Rammstein, alla Valle Lune dei Soundgarden insomma siamo contenti che per tutto questo tempo il comune sia sempre stato dalla nostra parte e nonostante che si siano succedute varie amministrazioni c'è sempre stata la comprensione, la voglia di portare avanti un discorso musicale che per quanto ci guarda è anche culturale riteniamo insomma che la cultura sia fondamentale, sia la base di ogni società civile per cui è veramente un grande errore per noi collaborare con un'amministrazione che tiene in prima istanza diciamo come base questo tipo di discorso il festival come tutti sappiamo è nato lo scorso anno, nel 2018 è nato da un'esperienza sulle ceneri diciamo del festival che noi avevamo lanciato nel 97 e che per 18 anni l'abbiamo portato in giro per l'Italia principalmente a Milano e Bologna, cioè che sono state le due città dove il festival era nato l'idea del Consument era un po' diversa rispetto a questo nel senso che si rivolgeva era sempre in grandissimi spazi, si trovi da anche grossi spiezi ovviamente dell'iniziativa però poi dopo un'altra esperienza insomma più meglio è vissuta dal pubblico era sempre abbastanza relativa nel senso che era molto concentrato sulla proposta musicale ma poco sull'accesso sui contorni insieme diciamo sulle altre attività collaterali che poi si possono invece sviluppare all'interno del festival. Per questo abbiamo deciso di lanciare questo nuovo marchio Rock the Castle è con una nuova diciamo idea di festival più concentrata sul fatto di voler dare un'esperienza diversa che non sia quella di andare a un festival per stare male fondamentalmente io ricordo che anche quando andavo da ragazzino al festival di Ciro per il mondo passavi alla fine delle giornate infernali nel senso che eri sotto il sole dalla mattina alla sera non riuscivi ad andare in bagno per mangiare un panino era un problema quando lo mangiavi erano perlomeno più per di più panini di colpa con una fetta di prosciutto andata armata dentro per cui l'idea è stata quella di creare un contenitore per un numero più limitato di persone che quindi potesse in modo da poter dare a queste persone un servizio migliore sia per quanto riguarda lo stare al festival durante tutta la giornata e quindi avere una location che potesse permettere di stare bene nel tuo festival ed anche un servizio migliore a livello di food and beverage quindi di stare bene di mangiare cose buone di bere cose buone di non dover fare un'ora e mezzo di cosa di andare in bagno diciamo avere cura del cliente non soltanto dell'artista cosa che magari nel nostro mondo per tanto tempo è stata un po' sottovalutata diciamo nel mondo del music business si è sempre tenuto a ottimizzare diciamo le varie situazioni a scapito della fruizione da parte del pubblico per cui la scelta di questa location è in questo senso perché comunque la location è stupenda tutti gli artisti che noi abbiamo portato guarda nel corso degli anni sono sempre rimasti affascinati dal castello e da come si poteva vivere un progetto all'interno l'anno scorso il risposto del pubblico è stato molto importante insomma abbiamo avuto veramente tante complimenti insomma diciamo il pubblico è stato contento della location e della scelta di come si è trovato dentro al festival ovviamente quest'anno ci saranno ancora miglioreremo ancora tutte le esperienze di come rispetto allo scorso anno quindi ci saranno migliorie sia per quanto riguarda il food per quanto riguarda il beverage cercheremo di eliminare quelle code per esempio alle migliorie che l'anno scorso ci sono state quindi insomma ogni anno si migliora e cerchiamo di portare sempre cose nuove al festival per quanto ci riguarda siamo già pronti anche per il 2020 quindi se il sindaco sul comune Villa Franca ci rinomerà la voglia di voler fare il festival per questo anno noi siamo già pronti abbiamo già anche contattato vari artisti quindi siamo già in fase di rampa bilancia per il 2020 devo dire che il festival per quanto riguarda anche il territorio di Villa Franca ha una ricaduta importante perché noi sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo portato e porteremo oltre 25 mila persone a Villa Franca in tre giorni per cui con una ricaduta importante anche economicamente sul tessuto sociale e sul settore economico e su tutte le economie della città. Cercheremo di dar meno noia possibile nel senso che non non è nostra abitudine andare nelle città a fare concerti e occupare interamente le città per cui capiamo che ci sono delle esigenze anche da parte dei cittadini che magari non vogliono avere casino o confusione per dirla un po' meno fino a tardi per cui insomma i nostri concerti come da tradizione iniziano in orario e finiscono in orario per cui noi alle 23.30 di oggi sera finiremo quindi non è che andremo avanti fino alle 5 di mattina su questo possiamo essere più che garantisti diciamo e sarà ovviamente organizzato il servizio di security di primordio come sta facendo l'anno scorso per cui non ci saranno problemi di nessun tipo nonostante che il pubblico di questo tipo di concerti è il miglior pubblico del mondo non ha mai creato un problema non c'è mai stato nessun problema di nessun tipo per cui anche quando magari si vedono personaggi diciamo affindati in modo stravagante ma problemi a livello di ordine pubblico non conoscevano mai per cui diciamo la nostra storia lo dimostra perché mi ricordo anche negli anni scorsi quando abbiamo fatto concerti che sono stati un po' osteggiati diciamo da parte di qualche... esatto mi riferisco in maniera immenso però poi dopo quando siamo avvenuti qua il concetto è stato fatto non c'è stato nessun tipo di problema se non magari vedere dei personaggi vestiti proprio appunto stravaganti con i capelli più piuttosto che rosa il fatto di voler popolare il castello con i personaggi del castello già l'avete un po' intervisto nel video che abbiamo proiettato prima poi dopo quando siamo al castello vedrete ancora mesi perché saranno presenti anche alcuni di loro e poi appunto abbiamo voluto sviluppare quello che già in molti feste dall'estero è già diciamo di vogue da molti anni che in Italia però ancora ha stentato un po' a decollare diciamo noi da quest'anno lo lanciamo nei nostri vari eventi non solo nel Torino ma anche negli altri quelli che è il discorso appunto del green della plastica non uso non riciclabile per la quale diciamo ci sembrava una situazione ideale per poter partire con questa nuova politica e dare un segnale importante che anche diciamo nel mondo della musica siamo attenti a questo tipo di situazioni su questo vorrei lasciare la parola a Marcello Verduri che pervertivo appurato per il discorso del crimine. Buongiorno a tutti, grazie Andrea, grazie a tutti. Parlare in pubblico non è semplice quindi mi sono preparato un po' di appunti che mi perdonerete se leggerò. mi ricollego a una cosa detta da Andrea prima cioè al fatto che riteniamo che la musica sia cultura e riteniamo la cultura alla base di ogni società civile ecco diciamo che cultura e civiltà oggi con i problemi che ci sono oggi non possono che essere legate alla necessità di educazione e di attenzione all'ambiente vertigo ha quindi lanciato questa iniziativa di festival in green adottata anche negli altri nostri festival come detto è un'iniziativa che nasce da uno spunto di Robert Giucci, il nostro head of production e da una inevitabile analisi etico-morale dei dati spaventosi riguardanti l'impatto della plastica monomuso sui mari e sull'environment tra le varie cose. Sulla base di questa riflessione abbiamo deciso di evitare totalmente la plastica monomuso e abbiamo introdotto dei bicchieri, lo leggo, olipropilene riutilizzabili che sono completamente riciclabili e verranno lavati e sanificati sul posto oltre ad essere personalizzati, vi possiamo vedere esposti qui davanti abbiamo quattro campioni dei bicchieri, sono personalizzati, hanno le grafiche del festival per essere anche un ricordo insomma da portarsi a casa e è un'operazione di attenzione all'ambiente massiccia che noi facciamo sui nostri tre grandi festival estivi il contributo che chiediamo al pubblico è di 2 euro per l'acquisto iniziale del bicchiere a fronte del quale il nostro impegno sarà quello di garantire acqua gratuita per tutti i partecipanti del festival ovviamente, oltre un efficiente servizio di ricambio, deposito e lavaggio dei bicchieri il tutto, ovviamente possibilmente senza cuore c'è attenzione all'ambiente anche in ambito food perché senza lesinare sulla scelta, sulla qualità dei prodotti il food sarà accompagnato da tovaglioli, posate, contenitori, immateriali compostabili compostabili significa che si disintererà totalmente nel giro di tre mesi quindi più che biodegradabile e quindi, oltre alla qualità musicale e culinaria insomma, Rock the Castle e in generale i nostri festival puntano sulla sostenibilità per creare degli eventi a minore impatto ambientale possibile oltre a questo, riprendo un po' il discorso già introdotto dal comune relativo ai contenuti, diciamo, aggiuntivi abbiamo una nuova veste, come detto, dei personaggi e queste attività intra ed extra castello che accompagneranno il festival infatti, oltre a questi personaggi, abbiamo pensato di portare una compagnia medievale di Porta Giovia, una compagnia che ha un vent'anni di esperienza per ripopolare sia il castello, ma anche, sempre per il discorso che arriviamo in una comunità e ci teniamo non solo a portare quello che qualcuno può anche considerare fastidio, ma anche qualcosa di buono il nostro festival, quindi, l'intento è quello di dare alla comunità un'esperienza storico, ludica e culturale che questa compagnia può apportare perché? Perché vivrà sia all'interno del festival che all'esterno io su questo magari passo la parola all'assessore Claudia Barbera affinché ci possa spiegare Buongiorno a tutti, io ringrazio Andrea proprio per questo accenno l'abbiamo sottolineato più volte sia nell'intervento del sindaco che di coloro che sono intervenuti più tardi la volontà comune da parte di Eleni, da parte dell'amministrazione comunale e di tutta l'organizzazione di crescere insieme con queste iniziative Rock the Castle, l'abbiamo detto, diventata ha reso Villa Franca un punto di riferimento importante per gli appassionati del genere musicale lo scorso anno quest'anno abbiamo dunque deciso di puntare ancora su questa iniziativa e nella volontà di farla crescere insieme sono state portate delle importanti novità una è proprio questa, la compagnia medievale Porta Giovia come appena sottolineato ha un'esperienza ventennale a quel piccolo di tutto rispetto l'idea era proprio quella di far vivere un'esperienza inunificabile e sia per chi compra il biglietto e quindi va a vedere il festival e si vode la musica all'interno delle mura del castello ma di rendere questo appuntamento una grande occasione anche per la città quindi mi auguro che la presenza di questa compagnia renda questa manifestazione una festa anche per tutta la città e quindi il mio ringraziamento va di nuovo a tutta l'organizzazione ad eventi, Rock the Castle aprirà un mese di luglio importante per gli appassionati di musica qui a Villa Franca aprirà un mese intero di concerti che proseguirà anche dopo Rock the Castle quindi grazie ancora perché è anche grazie a voi che riusciamo a fare queste cose Volevo dire due parole anche sugli artisti perché abbiamo parlato abbiamo detto un sacco di cose ma non abbiamo detto niente degli artisti per cui volevo un attimo ricordare un po' anche il concetto musicale del festival che come l'anno scorso si dividerà su tre giornate la prima giornata sarà dedicata un po' più alle sonorità progressive quindi avremo come line di Drip D ci saranno altre band della nuova ondata progressive come Tesseract, Haken, Mono più un paio di artisti italiani che sono Incro e Le Pagna più un'altra band inglese che diciamo non è propriamente progressive però insomma diciamo che può stare anche in quella cerchia di artisti lì che sono gli Inglorious sul 6 di luglio invece abbiamo costruito una giornata un po' più hard rock anni 80 chiamiamo così, diciamo così Leadliners da Slash, guitarista di Cazzo e Rose insieme a Mike Kennedy e cantante di Delta Ridge ci saranno insieme anche Blackstone Sherry, Chris Snyder, cantante di The Sisters Sebastian Bach, cantante a disco in proiezione riproporrà il senso di trentennale tutto l'album del solito del disco in proiezione Richie Colson che è un virtuoso titanista americano che ha suonato anche con i Poison e altre band del genere e gli FM che sono una band inglese un po' più a web diciamo come il genere non sono esattamente hard rock ambientate ma insomma comunque ci stanno dentro anche loro sul 7 di luglio invece avremo il grande evento dello show finale in Italia degli Slayer che è l'ultimo show dopo di questo non ci sarà più possibilità di vederli il tecnodette dei Gojira, band francese ormai sulla pesta dell'onda per gli appassionati del genere fino al servo ex cantante di Pantera che per l'occasione farà una setlist di soli pezzi dei Pantera e poi altre band del genere trash americano come Overkill, Sacred Rike e un paio di italiani come al solito la tradizione che mettiamo sempre che sono i Necrodit e i Calvert tutto qua riprendo la parola per dire che dietro a questo festival insomma c'è un team ampio che è volto al comune, l'ospitalità, l'appoggio quindi un ringraziamento ancora al sindaco, all'assessore della cultura dottoressa Barbera al funzionario della cultura e lo sport dottoressa Vazzerla ringrazio Eventi Verona di Ivano Masegnano e Raffeletta Prara i nostri referenti sul posto che garantiscono grandissima qualità a livello organizzativo locale ringrazio nello studio e nell'organizzazione delle nuove grafiche abbiamo collaborato con l'agenzia creativa Synapsi quindi un ringraziamento anche a loro il proprio Kestol che è fortemente supportato anche da tre importanti media partners che hanno creduto nel progetto e che oltre a collaborare nella promozione saranno presenti mi riferisco a Metalitalia.com, sito di riferimento per la musica heavy e rock in Italia il nostro affezionato partner da molti anni che come l'anno scorso sarà presente al festival dove gestirà i meet and greet con alcune delle band c'è un stage, una community online e media di riferimento per la musica live in Italia ha seguito più di 400 concerti nell'anno 2018 e festeggia i 12 anni di attività nel 2019 Fiorello Chiellio Virgin Radio che è la radio ufficiale del festival non ha bisogno di presentazioni è la radio europea ascoltata in Italia ha voluto abbracciare e supportare il festival in questa seconda edizione a partire dalla comunicazione pre-evento tramite tutti i canali potenti fino alla presenza fisica al festival stesso è diciamo un vero sigillo di qualità i rapporti con questi media partners e la comunicazione del festival da parte di Vertigo è stata curata dal responsabile dal nostro responsabile ufficio stampa e promozione Rosario Lea che è presente, che ringrazio per il prezioso lavoro svolto e al quale passerei la palla in caso di eventuali domande se ne qualcuno, innanzitutto volevo ringraziarvi all'autore personale di essere qui con molti ci conosciamo da un po' di anni altri locali che sono conosciuto vedo facce note simpatiche che solitamente incontrano i decerti e prima di dirigersi verso il castello se volete fare qualche domanda a qualcuno di loro prego sono Chiara Borloni di Osset volevo chiedervi, parlate prima di affluenza simile a quella dell'anno scorso quanto prevedete per quest'anno? in realtà spero l'anno scorso saranno decisamente di più quest'anno avremo oltre 25.000 persone nei tre giorni quindi diciamo più o meno l'esaurito su tutte le giornate io sono Antolietta Giannola Radio Bruno visto che c'è anche un riscontro economico sul territorio volevo sapere quali sono le relazioni che avete spesso in questo senso visto che ci sono tre giorni di festival e ci sono 25.000 persone in attesa vengono tutti qua o avete, non so, ha lasciato relazioni con gli alberi? ma credo che l'organizzazione può essere più sicuramente precisa per quello che ci riguarda noi siamo felici di ospitare manifestazioni di questo tipo perché è una manifestazione che coinvolge tutto il territorio tutto il territorio vuol dire anche le strutture che non comprendono solo Villa Franca ma anche le zone di Lutte quindi sicuramente è interesse di tutto il territorio noi lo consideriamo Villa Franchese ma perché è un bacino molto più ampio perché queste strutture effettivamente verranno interessate tutte quindi per noi è motivo di orgoglio ospitare questa manifestazione proprio per questo motivo, quindi per far conoscere la città per dar comunque il supporto anche economico a tutte le attività territoriali e commerciali del nostro territorio ospiteremo sempre e cercheremo di far crescere ma è stata chiedita avete degli scontri anche in questo senso? certo da tempo tutti i BMP e i alberi sono già tutti esauriti in questi giorni per esempio sono giù Giuseppe e Renato, non è altro e io vorrei sapere invece questi artisti della compagnia medievale che saranno presenti? cioè sempre in secolo dentro, fuori dal castello? come fanno gli spettacoli orari precisi? ci sarà... com'è? allora la compagnia sarà presente, avrà un accampamento esterno al castello adiacente al castello ma esterno e sarà probabilmente il link che farà sì che la comunità possa godere diciamo della loro presenza occuperanno durante gli orari del festival ovviamente saranno presenti anche all'interno soprattutto all'interno ma si alterneranno e quindi vivranno diciamo adiacentemente al castello l'intra e l'extra qui... orari precisi attualmente un programma delle... non c'è cioè stiamo lavorando però insomma la comunità potrà godere per il fatto che accamperanno fuori dal castello quindi anche chi non ha il biglietto sì, nel rispetto ovviamente del silenzio cioè le attività sono in ore di urne comunque com'è? no no, sei curioso di vedere ma andiamo al castello dove ci sono anche qualcuno? non ancora questo lo teniamo... vi teniamo in serbo la compagnia per il festival c'è una... insomma c'è una sorpresa però... va bene... grazie vanno? sì la nostra storia è una storia molto lunga prima volta è iniziata a credo così agli inizi degli anni 90 con una serie di insettive che si sono evolute nel corso degli anni e io credo l'abbiamo apportato un grande valore a questa città una città che ce lo merita per le sue caratteristiche per anche i rapporti con la conoscenza che c'è stato appunto per la città e soprattutto per le peculiarità monumentali che ha in questa vila franca per quanto riguarda di unico per quanto riguarda le sue caratteristiche una grande piazza di Stano che viene utilizzata tutto sommato con le stesse... nell'arco della stessa funzione per cui è nata un luogo di raccoglia di militari di un accampamento eccetera e adesso si trova a offrire le stesse opportunità a un pubblico che partecipano ad altri esperimenti che non vuoi avere simpatici e in città la roba delle stesse modalità il castello rimasta così resta così noi utilizziamo quello che è stiamo cercando di mantenere anche di salvaguardare soprattutto la sua integrità con tutti questi anni con tutto quello che è passato anche con robe molto pesanti di più grande o loro tra l'altro ha sopportato benissimo l'impatto e ne siamo usciti molto bene ma ripeto nel corso degli anni ci sono susseguiti molte cose molte cose un festival storico nel 2000 che si chiamava Roccaforte che vide tra l'altro per la prima volta in Italia i Coldplay e non si infilò nessuno purtroppo anche se tre mesi dopo divennero uno dei gruppi più famosi d'Europa insomma nel mondo tre mesi dopo tre mesi dopo non si presentò quasi nessuno erano a supporto dei Madri con io perché ci troveremo non so quando ci fa un po' di tempo ecco quindi sul fuoco che ce la muovi seguito così con voi ma poi c'è stato per cercare di mantenere una continuità l'utilizzo è la proiezione di l'utilizzo della struttura è la proiezione a livello nazionale di questo luogo di La Franca che era famosa per altri è rimasta il luogo in cui è nata il nostro paese no l'Italia insomma si è unificata intorno tutto parla di quelle unità di tanti intorno alle condizioni di La Franca e quindi La Franca è famosa e quindi abbiamo voluto investire per diventarsi anche come uno dei luoghi più interessanti per fare musica quello che abbiamo fatto noi come eventi diciamo è rapportato con le nostre potenzialità non abbiamo mai avuto un'armagna di protagonismo ci siamo proposti più come veicolo di qualche cosa a volte l'abbiamo fatto in primis cioè un'organizzazione completamente nostra abbiamo preso anche delle grandi personate ma ci siamo ma ci siamo resi disponibili a collaborare con realtà più forte più forte per una di queste per cercare di concentrarci di La Franca un'attenzione che andasse al di là la nostra forza ma che potesse interessare anche la realtà della del mio spirito ma che l'ha detto la prima volta non sentivo dire che potessero portare a Villa Freca quello che noi non eravamo in grado di portarlo perché la peculiarità di La Franca anche rispetto alla domanda che ha fatto il dottor Bruno del modificio dei benefici dei prodotti economici eccetera beh considerate che qui a Villa Franca l'intervento pubblico è molto limitato a mezzo è modesto anche perché noi riteniamo tutti gli spettacoli di musica contemporanea abbiano la loro capacità di autosufficienza cioè di vivere con le proprie forze cioè con una risorsa opinionale che vivere al pubblico che partece non necessariamente attraverso un sovvenzionamento un sovraggiamento che distorga risorse degli altri settori più importanti questo è quello che sta rafforzando perché che è anche quello che condiziona la possibilità di proporre perché se sei circondato da realtà vi cito un caso matto che spendi centinaia di migliaia di euro per fare due o tre concerti vedete non stai scrivendo l'inizio negativo sto semplicemente parlando di una costa sociale per fare due concerti che non fanno neanche la metà dei spettacoli del pubblico per farvi una franca beh questo è significativo per non parlare non so tutta la scelta la realtà è intorno non parlare sotto le stelle a pistoia blu sono tutti in realtà riconosciuta a livello istituzionale che c'è un sacco di contributi il comune di Vilafranca interviene non interviene il sindaco per questo intervento però in maniera molto limitata rispetto agli indotti che produce perché quando si parla di portare quest'anno andrei a parlare di 25mila persone noi parliamo di forse 45mila persone nel complessivo delle altre attività che poi arriverà l'ingesto tali e non è ancora finita quindi ecco questo è l'impegno che noi vorremmo continuare a svolgere in parte con iniziative nostre proprie dirette gestite da noi ma soprattutto con elementi di continuità di collaborazione con altri importanti capisco pare che ci sono interessati a guardare avanti insomma in particolare 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 io vi ringrazio e ringrazio a tutti della cortesia attenzione grazie 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 grazie